Ehi, non mi hai ancora chiesto scusa Alex. Non vedo perché dovrei farlo. La cosa non mi sorprende. Credi che volessi andarmene così? Dovevi dirci la verità. Non mi sarei dovuto fidare di te. Che cosa hai detto? E dai, siamo tutti amici, andiamo. No, non è mio amico. Ci vediamo presto in campo, Toro. Sì, non aspetto altro. Sbaglio o voi due non andate d'accordo?